e in queste realtà sono alte le percentuali di ragazzi vittime della criminalità organizzata. Nella legge di stabilità ci sono risorse per approntare un piano per lottare la povertà, però io credo sia opportuno affrontare questo tema della povertà del sud, delle condizioni scolastiche, con una sessione specifica del Parlamento per poter dare risposte serie da parte delle istituzioni ad una difficoltà seria oggi presente ma che condizionerà fortemente le future generazioni. Iniziativa delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, seguito della discussione della proposta di legge recante di esposizione in materia di acquisto e dismissione all'autovettore di servizio di rappresentanza dalle pubbliche amministrazioni, previo esame e votazione alla questione sospensiva presentata, seguito della discussione della proposta di legge recante di esposizione per la tutela e valorizzazione alla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, seguito della discussione delle emozioni concernenti iniziative anche in sede europea per la tutela del settore risicolo italiano, con particolare riferimento all'importazione del riso dalla Cambogia. La seduta è tolta. Grazie. 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 Grazie.